Euro Regione News Il filo che non si spezza. Lunedì 28 luglio il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dedicherà una seduta straordinaria ai corregionali e loro discendenti che all'estero si sono distinti per il lavoro, per i risultati ottenuti e per aver saputo integrarsi al meglio nei nuovi paesi di residenza, ricavando le considerazione ed apprezzamento a beneficio dell'immagine della loro terra di origine, il Friuli Venezia Giulia. Nell'aula consigliare a Trieste sfileranno 32 rappresentanti dell'emigrazione per essere presentati alla comunità regionale e per ricevere una medaglia di benemerenza. Ciascuno riceverà il riconoscimento accompagnato dalla motivazione che verrà letta in aula. Un momento intenso per chi riceverà, ma anche per coloro che auspicano di rendere costruttiva questa iniziativa sul piano delle buone relazioni internazionali, valorizzando proprio l'emigrazione. L'evento rientra nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Alla cerimonia saranno presenti tutte e sei le associazioni delle emigrazioni riconosciute in regione che attivamente hanno partecipato all'individuazione dei corregionali che giungeranno a Trieste da tutto il mondo. Dalle ore 10 di lunedì 28 luglio Euroregione News trasmetterà la cerimonia in diretta audio streaming. Potrete seguirla da PC, tablet e smartphone collegandovi al sito siamoindiretta.com Avete ascoltato Euroregione News